Condrodisplasia metafisaria tipo SPAR È una displasia pseudorachitica delle metafesi delle ossa lunghe, clinicamente analoga alla condrodisplasia metafisaria tipo Schmitt, ma con una differente trasmissione genetica, eredità autosomica recessiva. La statura e il peso, normali alla nascita, ritardano a partire dal secondo anno di vita, altezza inferiore al decimo centile. Condrodisplasia metafisaria tipo SPAR Bambino di due anni e mezzo Statura bassa Polsi, ginocchia e caviglie ingrossati Arti corti Irregolarità delle metafesi delle ossa lunghe Condrodisplasia metafisaria tipo SPAR Bambino di un anno e due mesi Fratello del caso precedente Lieve ritardo di ossificazione dei nuclei cefalici femorali con modesti irregolarità delle metafesi del femore Condrodisplasia metafisaria tipo SPAR Bambino di otto anni e mezzo Altezza centimetri 114 Vicino al fratello sano di 11 anni Altezza centimetri 136 Irregolarità delle metafesi del polso e delle ginocchia Ritardo di ossificazione dell'estremo cefalico femorale Grazie a tutti Grazie a tutti